Nella prossima stagione di F.P.Doppiaggi... Questa volta F.P.Doppiaggi vorrà dare il meglio di se stesso nella voce! Nella prossima stagione ritorneremo con i Simpsons, ma con quelli nuovi e più comici degli altri! In più altri nuovi cartoni che doppierà! Che doppierà i fantastici personaggi di Toy Story! E per chi conosce F.P.Doppi, beh, dovreste già sapere, no? Alla prossima stagione, allora! Vi aspetto!